Il primo pericino Ramondias in azione Stavolta su punizione cerca di guadagnarsi il premio partita Da Berggren che tira ma Sancredi respinge 10 Non è che in questo partito i trattamenti abili Che deve ancora lavorare molto per assueffarsi al gioco italiano Buone comunque Conclusione e questa parata è tutto a telalinea a Roma Naturalmente fino all'ultimo minuto ecco Francis che appoggia Perché sui romanesti potesse influire la notte di Norimberga Sentiamo Lidlman In palli Iniziamo con il colpo di testa di Benedetti messo in angolo da Tancredi In contropiede il gran tiro di Enzo viene messo in angolo da Tancredi Soltanto intorno al ventesimo ci hanno provato Ivani e Blissett Siamo con due punizioni la prima di Chiorri La seconda di Lino dopo 7 minuti sul cauccio d'angolo Colpo di testa di Schackner ed è bravo Tancredi Interista al primo colpo si fa parare il tiro Ma poi Scusatemi sono azioni che potrebbero non significare nulla Traversa Liscio di Renato Di attirare Spì in piedi Ancora l'Inter Serena di testa Nella ripresa è un'altra partita e lo spettacolo sale di tono Il rossoneri Un netto predominio anche dopo aver segnato Dischetto di rigore Severins con una rovesciata impegna Tancredi che si salva in Tancredi è stato bravo Posto tra le grandi Allora verza questo Tancredi La Roma Ma Giordano si fa parare il tiro da Tancredi Bonniac A terra su intervento di Nela Un po' acciaccato 10 minuti prima della fine e qui la sostituzione è addirittura in Il quale a 38esimo respinge un gran tiro sugli sviluppi di una punizione da La reazione della Fiorentina è poca cosa e si concretizza in questa La partita non aveva più esito Le azioni siedano a parte che dall'altra si svolgeva Finalmente si scuote ed è Virdis a impegnare Tancredi in una parata acrobatica Sul finire del tempo Altobelli sfodera un numero d'alta scuola Ma il portiere su una punizione astuta di Altobelli Quindi inspiegabilmente cambia il vento Sub entrato a tinti nell'intervallo Con questo gol passa in primo Anche la Fiorentina su calcio di punizione di Socrates e Tancredi di via in angolo Una bella rovesata di Arslanovic E la Roma si mostra molto fredda Gli spenti Graziani e Massaro Con Cecconi e Bellini Ma esemplare dalle forze dell'ordine Otto giorni di promizio I gianorussi aggrediscono gli avversari E dopo i tentativi Vanni da fermo Tiro di Trevisanello A concludere in mischia costringendo Tancredi al corno Il bravissimo Tancredi devia in angolo Poi lo stesso Tardelli si fanno ribattere le conclusioni da Tancredi Diaz con una punizione sotto la traversa Costringe Tancredi in angolo I daldi di Tancredi al 45esimo del primo tempo Le situazioni a concedere la massima punizione Il tiro di Brugnera Fiatto e non molto angolato Dopo soli sei minuti I rossoneri si portano in vantaggio Il tiro di Tancredi Virdis di testa chiama al lavoro Tancredi Che si disimpegna con Viali e Mancini nella migliore giornata Però per lunghi tratti è un vero e proprio assedio Alla precipitazione e agli schiagge anche indubbiamente la sfortuna Le occasioni più belle capitano a Roberto Redi si butta sulla destra e devia con la mano sinistra Secondo caratteristiche Indubbiamente le Redi di Pai Purtroppo stavamo un po' subendo Però poi alla fine siamo riusciti a pareggiare Ambe al 35esimo minuto Questa su tiro di Massimelli Ericsson ha dovuto sostituire Oddi infortunatosi con Giannini Vicino al gol con questo calcio di punizione di Müller Che trova Tancredi pronto alla deviazione Il tuolesso di tutti impegnava Tancredi in tuffo La festa di Mastro Pasqua Che costringe Tancredi alla presa volante Un Tancredi in giornata di prodezza Individualizzavano la manovra E solo nel finale si assisteva Il rigore viene battuto dallo stesso argentino Ma Tancredi bravo e fortunato Brillante punizione del solito Pecci Che pesca Lorenzo in area A gancio e tiro Messi si limita a passare il pallone a Tancredi E' la volta di Beccalossi Che su punizione deviata da Gritti impegna Tancredi E Junior se lo fa parare Come abbiamo detto C'è Policano Il giovane La Juventus potrebbe accorciare le distanze con il rush Il pallone dei padroni di casa comunque è vemente Guardate Tancredi come riesce ad evitare Che qui vola a sventare una punizione dell'argentino Perché è proprio Shackner che non sbaglia mai Questa volta ha sbagliato Tancredi stava andando nel verso dell'umiltà Pisa di gran carriera per togliersi il pensiero su E Beccalossi Ma Tancredi respinge d'intuito Puro Quello di De Coubertin Meraviglia quindi che i romanisti non l'abbiano Il tempo per Tancredi di deviare un tiro ravvicinato di Pacione Che la Roma Anzi è addirittura il Catanzaro ad impegnare Tancredi Con un bel calcio di Puglia E' stato a padrone assoluto del campo Come del resto il punteggio di 5 E' Maradona che sfiora il gol Con un grande intervento del partito di Tancredi 8 minuti alla fine Grande punizione di Maradona E grandissima risposta da campione Di testa Berggren al volo Grande parola Necessità di vincere Cosa che ha provocato Un Replica ancora il Pisa Colpo di testa di Kift Grande parola Ancora il tempo per una carezza di Mancini Taro Autorite di Giannini Non sa mai dare l'impressione di riuscire a raddrizzare le sorti del confronto Necessità di Tancredi E della Roma E della Roma Gran tiro di Bortolazzi da fuori aria Deviato in angolo da Tancredi E del gioco Con Casiraghi in grande condizione Tancredi il sicuro protagonista Abbiamo visto una punizione di Bruni Per Volpecina Che tira in aria E Tancredi è bravo Tancredi ha una difficile parata Già al settimo minuto Sul colpo di testa Ravvicinato di Cucchi Quasi un pro Grazie a tutti